Medici cubani in Calabria nonostante intoppi burocratici e forti interessi contrari. Il governatore della regione Calabria Roberto Chiuto all'incontro in cittadella con l'ambasciatrice di Cuba in Italia. Ai professionisti caraibici lo stesso compenso degli italiani. Siamo un modello per altre regioni. Liste d'attesa monstro per i pazienti di chirurgia pediatrica. Cosenza grave, carenza di organico. Le sedute operatorie fissate con il contagocce con i tempi che si allungano. Pediatria e chirurgia pediatrica accorpati per carenza di infermieri. Tra le mete più cercate sul web ultima per sito istituzionale. Calabria al quarto posto per popolarità delle destinazioni, mentre il portale web del dipartimento si rivela non attrattivo. E' quanto emerge dal Regional Tourism Reputation Index di Demoscopica per il 2022, giunto alla sua sesta edizione. Rivedere scelte e decisioni per il servizio idrico e dei rifiuti. Conferenza stampa questa mattina a Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace, si dichiara portavoce di decine di sindaci della provincia e chiede ad occhiuto di collaborare e rivedere le scelte assunte in materia di acqua e rifiuti. La musica e le parole di Samuele Bersani incantano Catanzaro. Dopo i concerti di Roy Paci, Rosso Antico, Francesco Forni e lo spettacolo inedito di Vinicio Capossela, nella Basilica dell'Immacolata è stato il cantautore romano di emozionare con i suoi più grandi successi. Ben ritrovati, nuova edizione dell'altro Corriere Tg, un saluto dalla nostra redazione, lo avete sentito dai titoli del sommario dopo l'arrivo nelle scorse ore del primo contingente di medici cubani, circa 50 già a Cosenza e pronti per essere presto impiegati nelle strutture ospedaliere calabresi. Oggi alla cittadella regionale l'incontro tra il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l'ambasciatrice cubana in Italia, Mirta Granda Averoff. L'occasione per illustrare il piano ideato dal presidente della regione, ma anche l'occasione per Roberto Occhiuto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, anche per cercare poi quello che è un confronto diretto con il paese cubano, attraverso proprio la rappresentante in Italia del paese appunto di Cuba. Ma sentiamo tutti i dettagli nel primo servizio. Un incontro istituzionale che fa seguito all'arrivo nelle scorse ore del primo contingente di medici cubani reclutati a tempo determinato per sopperire alle gravi carenze di organico nella sanità calabrese. Ad incontrarsi alla cittadella regionale il presidente della regione, Roberto Occhiuto, e l'ambasciatrice in Italia di Cuba, Mirta Granda Averoff. L'occasione è stata utile per il presidente della regione, per illustrare il progetto ed i piani futuri. Sì, noi abbiamo utilizzato le opportunità offerte da un accordo di cooperazione fatto dal governo cubano e dalla Commissione europea già nel 2017. E poi un varco normativo che ci dava la possibilità di utilizzare medici cubani. Il governatore si è soffermato poi anche sui rallentamenti causati dagli intoppi burocratici. Provenienti da diverse amministrazioni dello Stato hanno rallentato questa operazione. Siamo contenti però che oggi ci siano 51 medici cubani capaci di assicurare che i presidi ospedalieri dove è più difficile trovare dei medici rimangano aperti. Come ho già detto in diverse occasioni, questi medici non ruberanno alcun posto di lavoro a medici italiani. Occhiuto, infine, prova a spegnere le polemiche degli ultimi mesi. Chiaramente abbiamo toccato molti interessi, gli interessi dell'ordine dei medici, gli interessi delle cooperative a gettone. C'è stata una stampa che in alcuni casi ha evidenziato in maniera polemica questo accordo e queste circostanze forse hanno indotto qualche funzionario, qualche burocratico a ritenere che potesse ostacolare questo accordo. Ma come credo abbiano capito i calabresi in questo anno, quando ci poniamo un obiettivo facciamo di tutto per realizzarlo. Quindi abbiamo vinto anche questi ostacoli. Dunque, queste le considerazioni del presidente Occhiuto. Noi sentiamo adesso invece quello che ha detto a margine dell'incontro proprio l'ambasciatrice cubana. A ver, Cuba e Italia sono paesi molto similiari. Noi siamo amici di lungo tempo. Abbiamo famiglia italiana e cubana, una cultura molto parecita. Una famiglia italiana e cubana è una cultura molto simile. L'ambi studiarono italiano in Cuba e ora profondizano i medici hanno già studiato italiano in Cuba e ora lo profondizano per loro conoscenza della lingua e la Università della Calabria. Io sto sicura che come, come i medici hanno vinto a altre regioni del mondo, Incluso a paesi islamici, che hanno condizioni completamente differenti a le nostre, in Calabria sarà molto più facile. I medici cubani sono andati in altre molte regioni del mondo, anche paesi di cultura islamica, molto più difficili e lontani come cultura da quella cubana, in Italia sarà sicuramente molto più facile. E se hanno lograto inserire in queste realità e contribuire al sistema di salute di questi paesi, in Calabria lo faranno molto meglio, perché siamo molto pareciti. Se sono riusciti a inserirsi all'interno del sistema di salute di questi paesi arabi, in Italia sarà molto più semplice perché siamo molto più vicini. Queria resaltare qualcosa che dice il Presidente. Voi sottolineare qualcosa che dice il Presidente. Se ha creato un nuovo sistema, quindi tutto lo nuovo trae polémica, è novedoso, e hai che vencere ostacoli. Si è creato un nuovo modello, un nuovo sistema e tutto ciò che è nuovo crea inevitabilmente polemica, crea ostacoli e difficoltà per la sua novità. E continuiamo a parlare di temi sanitari perché anche alla fine di questo 2022 non mancano ancora in Calabria purtroppo le emergenze e le carenze di organico per le strutture sanitarie della nostra regione. Ci occupiamo in particolare di Cosenza, l'ultimo caso solo in ordine di tempo, purtroppo riguarda l'ospedale annunziata appunto della città Bruzia e il reparto di chirurgia pediatrica. Sentiamo. Liste di attesa e infinite operazioni di chirurgia pediatrica rimandate, tutta colpa della carenza di organico. All'ospedale annunziata di Cosenza i piccoli pazienti del reparto di chirurgia pediatrica sono costretti ad attendere il loro turno. Medici, infermieri e personale sanitario garantiscono migliori cure ai pazienti, ma soprattutto incitono sulla performance. E l'assenza di un corposo organico causa rallentamenti e disagi nell'organizzazione della sala operatoria. E' questa in sintesi la difficile situazione vissuta all'ospedale Bruzio, dove causa otavica assenza di personale. Si è resa necessaria l'unione temporanea di due reparti, chirurgia pediatrica e pediatria. Solo cinque posti a disposizione nel nuovo reparto, mentre le sedute operatorie vengono fissate con il contagocce. L'assenza di infermieri ha imposto l'obbligato e obbligatorio accorpamento in attesa delle assunzioni che dovrebbero partire a gennaio. Intanto i pazienti più piccoli saranno costretti a lunghe attese prima di sottoporsi agli interventi chirurgici. Un dramma nel dramma e non nel settore, quello sanitario calabrese, in continuo affanno. Spazio adesso al turismo con una classifica che riguarda proprio la Calabria e che tocca l'organizzazione istituzionale della nostra regione. Nostra regione che secondo i dati diffusi in questo caso da Demoscopica e tra le mete più cercate su web, ma il cortocircuito riguarda il sito istituzionale con numeri nettamente più bassi rispetto ad altre regioni italiane. Oltre 144 milioni di pagine indicizzate, poco più di 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, ben 53 milioni le recensioni conteggiate e quasi 386 mila le strutture ricettive osservate. Sono questi i numeri generati dalle regioni italiane per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dalla Regional Tourism Reputation Index per il 2022, giunto al suo sesto anno consecutivo sulla base dei seguenti indicatori. Visibilità ed interesse dei portali turistici istituzionali e regionali, loro social appeal presso gli stakeholder e ancora popolarità, fiducia e tendenze di ciascuna destinazione turistica regionale nel complesso ed infine la reputazione del sistema ricettivo. Lo studio di Demoscopica conferma il ranking delle prime tre destinazioni regionali, Trentino Alto Adige in vetta, seguito da Toscana ed Emilia Romagna. La Calabria fa registrare buoni indicatori per quanto riguarda le ricerche e la popolarità sul web, quarta alle spalle di Sardegna e Toscana, che si dividono il primato, e di Sicilia e Puglia, rispettivamente seconda e terza. La nostra regione invece male e molto sul fronte dell'appeal dei portali turistici. Se il Trentino può contare infatti su una dote complessiva di quasi 1,6 milioni di like e follower conteggiati sui vari canali social, la Calabria ne vanta appena 38 mila, piazzandosi al terz'ultimo posto. Spazio adesso alla cronaca con una notizia. C'è stato oggi infatti il quarto sequestro effettuato dalla Polizia di Stato di Vibo Valencia nell'ambito dei fuochi d'artificio, controlli che si inseriscono in un filone di attività legate al contrasto e alla circolazione di esplodenti illegali in vista proprio delle feste natalizie, soprattutto ormai di Capodanno. Complessivamente sono stati sequestrati nelle ultime settimane oltre 400 kg di materiale detenuto in modo del tutto abusivo. L'ultimo riguarda Tropea dove gli agenti hanno trovato diversi artifici pirotecnici nascosti in una stanza dell'abitazione di un uomo privo di licenza. Nel vano Scala sono state rinvenute 149 cartucce in esplose calibro 9,21. Questi prodotti esplosivi, con un peso complessivo di quasi 2 kg ai fini di stoccaggio, trasporto e maneggio, è assegnata infatti la classe di rischio ADR1 e che indica il massimo grado di pericolosità costituendo un serio pericolo per l'incomunità personale ma soprattutto per la sicurezza pubblica. L'uomo è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari. Andiamo a Reggio Calabria adesso, voltiamo pagina, ci occupiamo di un tema che per la verità sta occupando la cronaca politica da diverse ore, da diversi giorni, soprattutto dopo l'annuncio dell'istituzione di Arrical, annuncio arrivato proprio in cittadella da parte del governatore Occhiuto. A Reggio Calabria invece è stato un incontro particolarmente acceso sui temi che riguardano proprio il trasferimento delle competenze sulla gestione idrica e del trattamento dei rifiuti. Sentiamo com'è andata. Ma io me lo auguro il passo indietro di Occhiuto ma non mi piace neanche dire che sia un passo indietro. Sarebbe un passo in avanti quello di Occhiuto di riconoscere che c'è un'amministrazione che vuole collaborare. Nient'altro. Non lo vedrei come un passo indietro né lo voglio chiamare come un passo indietro. È un atto d'amore per questo territorio di collaborazione perché noi stiamo mettendo una struttura a disposizione della Regione Calabria. Conferenza stampa dai toni accesi stamane a Palazzo Alvaro. Il sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace ha tracciato un bilancio sull'operato dell'ente. Ma durante la conferenza stampa facendosi portavoce di decine di sindaci della provincia ha anche chiamato in causa il governatore Occhiuto e chiesto al presidente della Regione di rivedere la propria posizione sulle decisioni assunte in materia di acque e rifiuti. Dopo un dialogo richiesto più volte ma mai ottenuto con lo stesso governatore Versace ha invocato la collaborazione. Ma la richiesta che facciamo a Occhiuto è la stessa richiesta che abbiamo fatto ad aprile che è quella di poter utilizzare uno strumento già rodato sul territorio metropolitano che è appunto sperimentato ormai da tre anni a questa parte che può servire sicuramente perché è già funzionante, già operativo, già collaudato, che già sta apportando in questi anni ha già apportato degli importanti risultati nel nostro territorio metropolitano. Non chiediamo assolutamente che lui debba ritornare indietro e rivedere completamente quello che è lo schema di quella legge che è stata votata ormai qualche mese fa. Chiediamo che però la città metropolitana in quanto diversa dalle altre ato possa avere quella legittimità nel poter continuare nella sua autonomia nella gestione del ciclo dei rifiuti. Adesso alla Mezzia Terme dove in particolare nel Tribunale Lamettino è stata inaugurata la Camera Penale all'Avvocato Felice Manfredi voluta in particolare dal nuovo presidente Lamettino Renzo Andricciola che ai nostri microfoni ha parlato anche del ruolo importante delle Camere Penali nel fermento della giustizia e dell'Avvocatura. Sentiamo. Un'intitolazione sentita e partecipata utile anche a fare memoria. Con questo spirito nel Tribunale di la Mezzia Terme è stata celebrata l'intitolazione della Camera Penale all'Avvocato Felice Manfredi. Un momento solenne per due motivi il riconoscimento della figura e del lavoro svolto da un professionista amato e rispettato ma anche l'occasione per colmare il gap rispetto agli altri organismi di rappresentanza degli avvocati penalisti in Calabria. Quello Lamettino infatti era l'unico privo di intitolazione. Col nuovo corso intrapreso con la mia presidenza abbiamo deciso di intitolarlo ad uno dei principi del foro Lamettino. Ritengo che era opportuno collocare l'Avvocato Felice Manfredi nel gota dei penalisti italiani essendo quasi tutte le Camere Penali italiane intestate dei grandi penalisti. Un profilo di alto spessore, quello di Felice Manfredi, per questo, secondo Andricciola, era opportuno collocarlo nel gota dei penalisti italiani. Ha partecipato ai più grandi processi che si sono celebrati sul territorio italiano. A me ricordo il sequestro Cristina Mazzotta, ricordo la strage alla stazione di Eccellente, l'omicidio Lolita, il sequestro Pacileo e tanti tanti altri processi di risonanza e di cassa nazionale. Dal Presidente della Camera Penale di La Mezzia Terme infine un bilancio del 2022. È innegabile che è un periodo di fermento per la giustizia e per l'avvocatura tutto. Certo, le Camere Penali italiane, il coordinamento regionale delle Camere Penali calabrese, la Camera Penale di La Mezzia Terme hanno un ruolo importante in questo fermento. Un ruolo importante che certamente cercheremo di attuare e di incidere per quanto possiamo in quelle che sono le dinamiche di questo nostro sistema giudiziario. Instaurare un proficuo dialogo tra diverse generazioni grazie alla diffusione della cultura digitale. Questo invece è il tema centrale dell'incontro organizzato ancora alla Mezzia Terme da Anteas e presentato nella sede della Cisle. Sentiamo. Rigeneriamoci, ovvero un modo concreto per instaurare un proficuo dialogo tra diverse generazioni grazie alla diffusione della cultura digitale. Questo è il percorso progettuale presentato nella sede Cisle, alla Mezzia Terme, progetto destinato ai giovani fino a 17 anni e con protagonisti anche gli anziani. Tra gli obiettivi la costruzione dell'identità e della conoscenza delle proprie radici culturali, puntando anche all'educazione, alla solidarietà tra le diverse età della vita. Il progetto nasce da una esigenza, quello di inserirsi in uno spazio culturale con l'intento di valorare queste tese e questi valori che noi pratichiamo come stato trattamento tra gli anziani e i giovani. Noi oggi festeggiamo non tanto il progetto in sé, ma è l'inizio di un percorso che dovrà attraversare tutta la Calabria per avvicinare i giovani e per avvicinare assieme agli anziani quelli che sono i cittadini che vogliono collaborare a migliorare le nostre condizioni generali. Ma l'occasione è stata anche utile per presentare il libro Crescere con il volontariato realizzato da Anteas Calabria. Certamente. Noi con me, a principio, siamo vicini agli ultimi, ai dimenticati, siamo vicini ai deboli, alle persone fragili e siamo anche in condizione di essere presenti in tutto il territorio regionale in modo da coordinare alcune attività che partono dall'assistenza, ma soprattutto, non l'assistenza viene a se stesso, ma soprattutto, ripeto, avvicinare culturalmente sul piano dei diritti tutti quelli che oggi i diritti non ce ne hanno. E prima di salutarci con la musica che è lo spettacolo che arrivano da Catanzaro, andiamo a Crotone, dove invece si è tenuta la prima riunione del Consiglio Comunale formato però non dai consiglieri eletti nel corso dell'ultima elezione, ma da bambini e ragazzi. Sentiamo di cosa si tratta. Coinvolti oltre mille alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari e delle classi seconde e terze delle scuole medie di Crotone che hanno partecipato all'elezione lo scorso 14 ottobre, dei 45 rappresentanti del Neoconsiglio. L'iniziativa, sostenuta sia dai docenti che dai genitori, ha come obiettivo quello di costituirsi come organo consultivo e propositivo per offrire e tenere vivo negli amministratori comunali e nella comunità cittadina il punto di vista dei bambini non soltanto sui problemi di stretto interesse infantile ma anche su tematiche riguardanti la città nel suo complesso. Nella sala consigliare tra i banchi dell'Aula Falcone e Borsellino si è già tenuta la prima riunione di insediamento. Molto, molto poi con i bambini mi danno molte soddisfazioni è stata è un'avventura a mio avviso molto importante anche per la crescita personale e politica una donna sindaca della città. È la prima volta nella storia che si istituisce proprio il consiglio comunale delle bambine e dei bambini delle ragazze e dei ragazzi ed è la prima volta anche se in piccolo che l'eletta è una donna una bambina Lucchetta Rosa Ines. Ho lavorato e continuo a lavorarci per i buoni risultati bisogna sempre darsi da fare io credo che questa esperienza possa innanzitutto a me ma a tutta la città dare un contributo veramente importante. E come promesso in chiusura del nostro TG andiamo a Catanzaro per il magnifico ed emozionante concerto dell'amatissimo cantautore Samuele Bersani dopo il concerto di Vinicio Capossela quindi la Basilica dell'Immacolata anche stavolta ha fatto da scenario ad un evento unico. La musica e le parole di Samuele Bersani ad incantare il pubblico di Catanzaro dopo i concerti di Roy Paci Rosso Antico Francesco Forni e lo spettacolo inedito di Vinicio Capossela nella Basilica dell'Immacolata è stato il cantautore romano ad emozionare con i suoi più grandi successi. Da En a Xanax a Spaccacuore e da Giudizi Universali a Replay Nuovo appuntamento della rassegna a farla amare cominciato l'incontro con Bersani ha coinvolto ed emozionato il pubblico presente spettatore di una performance emozionante e coinvolgente. e il pubblico con C'è di quello che dici qualcosa che è e c'è solo una coppia di mille di astuti leggera leggera si guarda la fama rimane in un'altra generale e non ci sei più e non ci sei più e non ci sei più con la musica di Saumele Bersani si conclude l'edizione del nostro DG grazie per la vostra cortese attenzione vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione e vi invito ovviamente a restare sintonizzati sull'altro Corriere TV a presto a presto